Aperta al pubblico la tomba di Benedetto XVI nelle grotte di San Pietro. Qui il pontefice, primo ad abdicare in 600 anni, è stato sepolto il 5 gennaio, subito dopo i funerali, in piazza San Pietro. A prestare omaggio al Papa Emerito, deceduto il 31 dicembre a 95 anni, già una folla di visitatori. La Santa Sede non ha comunicato se a raccogliersi sia stato anche Papa Francesco, che questa domenica ha battezzato 13 figli di dipendenti vaticani nella Cappella Sistina in occasione della festa del Battesimo del Signore.